e consiglio per gli ascoltatrici citazioni botte allora la busta è questo involucro fatto di plexiglass questa volta e la vostra vacanza su www.balcanexpress.it a partire da a 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 che torna ad essere di primissimo livello e di primissimo interesse è il derby di che a 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 Sì, hanno fatto un po' di spettacolo. Sì, hanno fatto. E io credo che questa è la prima opportunità, perché Chelsea hanno cambiato, hanno avuto un po' di fronte, hanno avuto più di più di fronte, hanno fatto Fabregas, con Saha, con Ventechi, si possono avere un po' di fronte. Petro, ora si può avere un po' di fronte. Asolo, sta avuto.